Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, sono Chiara, sono una studentessa dell'Università degli Studi dell'Insubria. Ho scelto questa università perché è una piccola realtà che mi permette di avere le giuste attenzioni che desidero per realizzare i progetti del mio futuro. Il piano di studi è molto variegato. Ti permettono di fare delle ore di tiroccinio all'interno delle quali ti puoi sperimentare come figura professionale. Le materie che si studiano sono sia materie scientifiche che materie pedagogiche che materie tecniche, mentre durante i laboratori puoi esprimere la tua creatività. Durante la giornata del sapere educativo si portano sul territorio tutti i progetti fatti durante l'anno. Credo sia molto importante perché grazie a questa giornata l'educatore si fa conoscere e crea una rete di servizi tutti i volti allo stesso obiettivo. Ho scelto questo corso perché quando guardo un film non mi soffermo tanto alle battute che fanno gli attori o a che spostamenti fanno, quanto a che tipologia di luce hanno utilizzato e che spostamenti ha dovuto fare il cameraman. Dico questo perché considero la figura dell'educatore professionale come una figura di regia, che frequenta poco il palcoscenico ma che senza di lei il film non sarebbe completo. Allo stesso tempo credo che in ognuno di noi ci sia un educatore. C'è chi non lo ascolta, chi lo considera ma poco importante, chi invece lo ascolta e lo considera molto importante per la sua vita. E io sono una di queste. Infatti questo percorso di studi mi ha permesso di coltivarlo. Quindi tra poco potrò dire di essere un educatore professionale.